Alessandro Mella è stato insinito del Cavalierato dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana per regio decreto del Capo dello Stato Sergio Mattarella. La cerimonia è avvenuta nel primo pomeriggio di sabato 22 giugno presso la Sala Consigliare del Municipio di San Carlo, alla presenza dell'amministrazione comunale e dei familiari di Mella. Un'orificenza questa che ha preso oggi a San Carlo che le fa enormemente piacere. Sì, è sicuramente qualcosa che fa bene al cuore e con i tempi che corrono, con tanta durezza, tanto cinismo che c'è nella società, le cose che fanno bene all'anima sono sempre gradite e aiutano a vivere meglio, a trovare il coraggio di affrontare tutte le difficoltà che abbiamo di fronte ogni giorno. Credo che ognuno di noi possa fare qualcosa per rendere un po' migliore il mondo rispetto a come l'abbiamo trovato. Lo diceva Baden Paolo e io ci credo. E penso che questi momenti ci gratifichino e ci spingano a fare ancora di più, a cercare di fare ancora di più. Grazie. Grazie per il conferimento dell'onereo vicente del Cavaliere al metodo della Repubblica con la consegna del libro Ceni Storici di San Carlo alle cose del nostro paese. Questo è per te, complimenti. Grazie. Grazie.